Controlli a tappeto nel fine settimana effettuati dai carabinieri per contrastare il fenomeno di chi guida dopo aver abusato di alcolici. I militari della compagnia di Nova Feltri hanno ispezionato 128 automezzi e 191 persone. Un 42enne residente a Maiolo, la guida di una lancia Y lungo la via Sant'Agata, è stato sorpreso da una pattuglia in evidente stato di ebrezza alcolica sottoposta ad accertamento tecnico mediante tilometro. Aveva un tasso alcolico pari a 1,38 grammi per litro, molto al di sopra del tasso consentito pari a 0,5 grammi per litro. Come previsto dalla normativa vigente è stato deferito l'autorità giudiziaria di Rimini per guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente. Una donna di 29 anni di Rimini è stata sanzionata, viaggiava lungo la via Marechiesa ed è stata fermata da una pattuglia dell'aliquota radiomobile mentre guidava una Ford Fiesta con un tasso alcolico pari a 0,57 grammi per litro. Pertanto, come previsto dalla normativa, gli è stata ritirata la patente di guida. Sanzionato è anche un cinquantenne di Cesena che a bordo di una moto Suzuki GS lungo la Marechiese ha sorpassato alcuni veicoli in un punto in cui è vietato dalla segnaletica stradale. Questi due conducenti è stata ritirata la patente. Sanzionato è anche un ragazzo di 20 anni di Coriano che durante un posto di controllo in via 24 Maggio 9 a Feltre è stato fermato a bordo della sua autovettura una Mercedes classe A con a bordo sei passeggeri invece dei cinque previsti della carta di circolazione. In particolare un passeggero era stato fatto salire nel vano portabagagli posteriore.